Solo questo istante. Nelle tue mani hai solo questo istante, l'istante reale, e non potrai mai più riavere questo momento di nuovo. O lo vivi, oppure rimane non vissuto. Da sempre esiste un malinteso riguardo la vita e il tempo. Si pensa che il tempo sia formato da tre momenti, il passato, il presente e il futuro, il che è sbagliato. Il tempo consiste unicamente di passato e futuro, il presente è ciò che forma la vita. Pertanto coloro che vogliono vivere hanno un'unica via, vivere questo momento. Non c'è altro modo, solo il presente esistenziale. Il passato è una semplice collezione di ricordi, il futuro non è altro che la tua immaginazione, i tuoi sogni. La realtà è qui e ora. Per chi vuole limitarsi soltanto a pensare, pensare di vivere, pensare di amare, pensare i sentimenti. Passato e futuro sono perfetti, perché forniscono infinite possibilità. Costoro possono decorare il loro passato, abbellire al loro piacimento, sebbene non l'abbiano mai vissuto, perché quando la vita era presente, loro non lo erano. I pensieri non sono altro che ombre, riflessi. Quella gente stava semplicemente correndo e in quel correre ha visto delle cose. Pensano di avere vissuto, ma nel passato solo la morte è reale, non la vita. La stessa cosa vale anche per il futuro. Anche in questa prospettiva soltanto la morte è reale, non la vita. Chi in passato si è lasciato sfuggire il vivere, automaticamente per coprire quel vuoto, per annullare quella frattura, inizia a sognare il futuro. Quel futuro è soltanto una proiezione che scaturisce dal tuo passato. Si ispira di poter vivere in futuro ciò che non è stato vissuto, tra queste due non esistenze che spicca il piccolo istante, presente, che è la vita. Per chi vuole vivere e non pensare di vivere, per chi vuole amare e non pensare di amare, non esiste altra alternativa. Occorre bere il nettere del momento presente. Spremino in tutta la sua totalità, perché non ritornerà mai più, una volta passato sarà svanito per sempre.